Pasha hai rotto la coppa Now I'm gonna cry Eccolo il babo con l'88 Se vince Stefano sono 50 punti in meno Ho puntato tutto su di te Mohamed cosa combini? Sta piccolo c'era solo la mia immaginazione per costruire le comp Show must go on Beh ragazzi quest'app è bentornato in questo nuovissimo videoblog Il letto è in disordine ma va bene non consideratelo Oggi pomeriggio noi mates andremo all'evento di Lego Dimension Tra l'altro in concomitanza andremo anche al cinema a vedere i Lego Batman il film Che quando vedrete questo video sarà ancora al cinema ma sarà già uscito Sarebbe l'espansione per il videogioco che introduce i personaggi di Batman E incontreremo circa 150 di voi per provare il gioco assieme E fare un torneo che vedrà vincitore solo uno dei 4 mates Vi prego impegnatevi di supplico Ho scoperto una cosa fighissima dell'espansione Oltre a doverti vabbè montare il portale e tutti i personaggi Tu all'interno del gioco trovi le istruzioni per andare avanti con le costruzioni che ci sono nella scatola E' veramente figo Da piccolo c'era solo la mia immaginazione per costruire le cose Comunque girovagando fra le tendenze di YouTube Ho visto che Favij ha fatto un video molto particolare no? Ho sempre sognato di essere con voi alla fine del mondo ragazzi E' bello essere al vostro piano E' stato un onore Qui da dove fa perdere gli iscritti a qualcuno Ho scoperto una roba incredibile guardate che roba Questo è il coso di Stepney Dice 686 no? Ok Ora io mi iscrivo a Stepney Ok Sto 687 Ora mi disiscrivo a Stepney Da persi due Come? Facciamo perdere gli iscritti a Stepney Dai Tutti i miei iscritti Guardalo Guardalo Avrò la mia vendetta In questa vita o nell'altra E' quando avrò rifatto il letto eh Tutti a casa del barone Ora andiamo a prendere la macchina Andiamo all'event La destinazione si trova sulla destra Grazie Abbiamo visto La barone mobile Mobile Come si chiama l'automacchina? Giulietta No La Batmobile No woman no cry No woman no cry Toilette degli uomini Per donne e bambini chiedere la chiave del bagno del cast Vediamo in che condizioni sono i capelli Dopo giocherete a questo Vi sfiderete a questo E poi noi faremo il match finale E dopo il match finale Andiamo a vedere il film di Lego Batman Magari per la prima volta hanno dato un ruolo a Robin Che di solito non fa mai niente Sei il campione In carica Sascha hai rotto la coppa L'avete visto tutti E' nel video L'avete visto Ragazzi ho imparato il dono della levitazione Vai Corri L'avete visto gli altri E' nel video �� calco Ma certo che vince Questo è spionaggio industriale la squadra di surri dove pensate di andare vinceremo noi capito questa è la squadra gialla Questa è la squadra di sascia è palesemente comprato perché guarda davanti sono Organizzazione, noi ce l'abbiamo meno Abbiamo svelato il mistero dell'88 però non è un ragazzino e vabbè Aspetta, ma lui dovrebbe competere contro contro il mio Ragazzi sa che non c'è tanta storia Mohamed cosa combini dai zero punti ho puntato tutto su di te Scelto male il mio cavallo. No raga non è possibile ovunque Chi è il rosso devi vincere manca il giallo portalo via sta barando il mio coaching sta funzionando stiamo risalendo Ma come buttati nel vuoto? Ma come buttati nel vuoto? Ma come stai vincendo il vuoto? Attento No Devo giocare papà Stefano non puoi giocare ste Sono la riserva La riserva di cosa? Se vince Stefano sono 50 punti in meno Maglio qualcuno sta tragiardando Chi è il team rosso? Ah 120 punti in più ma Stefanino Com'è giocare con Stefano? Bellissimo Ho vinto io Ciao Stefano Voglio lasciare un video un po' Eh dai eh Ci sono nel vlog e ti dico vieni qua nel vlog anche te Difficie Previsioni di vinci Che sta succedendo raga? Raga non vedo niente Non vedo niente Cosa sta succedendo? Vai su lì No no Mi ha ucciso Chi mi ha ucciso? Mi ha ucciso Furry e Vegas sono terzi Sì Sì La prima posizione Qui arriva il fatti vince La squadra di Oh Vincitati Ha giocato Ha giocato Grandi rossi Hai giocato te Sì ma il secondo Quanti punti differenzia? 8 punti Serti 8 punti Nel Serti 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 Applausi Per Stefani Serti 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 No, no! Grazie a tutti L'evento è finito ora siamo al cinema Papà mi ha comprato i pop corn grazie papà Ah li ha presi anche per te Vabbè ci sta Vabbè è grande quanto la mia testa La mia testa è piccola Andiamo a vedere Lego Batman il film Ma ci sono anche tutti i fan ci siete tutti voi Ora appena arrivo in sala vi faccio vedere Fuori diluvia quindi il clima è perfetto Il film non posso riprenderlo purtroppo Quindi lo riprendo col cellulare Grazie Grande padre quanto è grande sto cinema Gigantesco Ci siamo Eccolo il babo con l'88 Eccolo il babo con l'88 Ora riprendiamo illegalmente il film e lo carichiamo su internet No scherzo Ci vediamo all'intervallo raga Il film è finito A me è piaciuto veramente tanto Suri mi ha appena finito la Coca Cola Ma non è meglio Ora tornacca Che stai facendo? C'è una maglia di spazio Guarda i due botte Ora Suri tira la maglia Vai vediamo chi la prende E dai eh Ma vi è piaciuto il film? Sì E dai Scusate il taglio brusco Siamo tornati a casa L'evento è stato veramente una bomba Ci siamo divertiti un sacco Il gioco si presta tantissimo A giocare in gruppo Una figata pazzesca E mi hanno regalato una maglia di Batman Guardate che figa Questa ci hanno dato direttamente Prima di entrare al cinema Gli altri l'hanno lanciata tutti quanti Io ho preferito tenermela In realtà l'ho tenuta anche solo Per avere un piccolo ricordo dell'esperienza Insieme alla coppa Quella che era una coppa più o meno Per varie ragioni Durante il film Non ho potuto riprendere Però ci sono state delle scene Veramente esilaranti E troppo divertenti Che mi piacerebbe ammettere Ma non posso Batman trolla tutti Cioè è un troller epico E ragazzi vi saluto Vi ringrazio per la partecipazione Per la visione Per la pazienza Spero che vi sia piaciuto Se siete stati spolliciati Commentate Condividete Fatemi sapere com'è il film O se giocate al videogioco Lego Dimension Com'è il videogioco Ci vediamo al prossimo video E da sapere tutto Ora faccio una cosa Molto divertente Io te l'ho detto Che avrei avuto la mia vendetta Sei pronto? Addio Boby J Addio Vado No scusa scherzavo Lorenzo Scusa Scusami Eccolo lì Addio di nuovo Ma che cazzo Ma fa gu...